design review design review beh questa era una chiara citazione ma a parte questo ben trovati su questo magico piccolo grande canale questo è il vostro host di fiducia electric prima di iniziare il nostro video però dedichiamo un po di tempo a voi nel nuovo segmento commenti sinceri per voi oggi rispondiamo al commento di claudia riesci sempre a farmi venire una voglia matta di prendere la tavoletta grafica e disegnarci super ore pazzesco ha 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 ti adoro adoro i tuoi disegni di fiammetta cuore claudia claudia io da quando vedo gli emoji della fiamma e del cuore abbinati mi prende una profonda voglia di estrarre il mio cuore e dargli fuoco ma non penso sia possibile tecnicamente avrei bisogno di un apparato tecnologico in grado di tenermi in vita abbastanza a lungo da compiere questo atto folle ma profondo atto folle come quella volta che sono stato invitato a uomini e donne per fare l'opinionista il problema è che non sono in grado di opinare da quella volta che ho deciso di diventare una fatina da quel giorno mi alleno 24 ore su 24 per essere la regina delle fate un giorno sarò la più bella fatina che il mondo abbia visto grazie mille per le belle parole faccina con lingua fuori bene fringuelli iniziamo subito un'altra magica puntata di questo epico show ovvero design discutibili che discutiamo insieme così tanto per perché di voi è nuovo in questo tipo di video noi andiamo analizzare ogni errore umano legato a grafica marketing progetti di design architettura chi più ne ha più ne metta ma iniziamo subito con la primissima immagine che è tra le mie categorie preferite sapete quando un'immagine casualmente o forse volutamente viene posizionata a minchia o a razza de can e otteniamo un esempio come il seguente in cui non abbiamo più una bambina carina ma un essere mutante deforme per chi di voi segue questa serie da un sacco di tempo saprà che io adoro quando capitano queste cose bambina tutto bene dove stai guardando iniziamo piano iniziamo lentamente con immagini non troppo d'impatto ma che comunque sia sottolineano l'incompetenza la nel mondo là fuori quante volte dico la come in questo caso in cui il grafico che si è occupato di questo sacchetto del caffè è stato così pigro così poco attento da non inserire il testo dove andava inserito e vi ha lasciato letteralmente la scritta pigia un tasto per inserire il testo o chissà magari l'ha scritto lui apposta perché puoi scrivere sul sacchetto pensa la terza immagine di oggi è invece un progetto d'architettura quando si posizionano dei corrimano su delle scale servono per non far cadere le persone non come in questo caso che servono per intrappolare le persone che entrano dal lato sbagliato se cioè se tu inizi da questo lato le scale andando in su rimani intrappolato a un certo punto o scavalchi o torni indietro non è stato ben pensato prodotti simili alla mucina per uccidere i vostri piccoli germi che si annidano nelle vostre mani sono sempre più utilizzati famosi se così vogliamo dire ma secondo me il migliore è il culo paludoso swamp ass signori il culo paludoso che sicuramente un nome di spicco in questa categoria fa il contrario della mucina e fa diventare un lerciume le vostre mani compralo ma oggi il vostro caro peo di quartiere ha deciso di darvi qualche lezioncina di grammatica inglese ok a scuola magari avrete imparato dire uno due tre ma anche primo secondo terzo quarto quando dici primo metti l'uno e ci schiaffi st vicino perché first first primo ma in questo caso quando è il secondo ci va il due con l'n d n d second invece qui c'è scritto second 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 un chiaro errore grammaticale bambini imparate a scrivere l'inglese imparate a parlare l'inglese e se vi avanza del tempo io ci butterei anche il cecoslovacco così per hobby se invece siete dei genitori amorevoli come me e volete fin da piccoli traumatizzare i vostri bambini beh sono in offerta i conigli impiccati letteralmente i conigli appesi ma in realtà non sono mirati a traumatizzare il vostro bambino bambina ma per insegnare loro subito il significato della violenza sugli animali e sulla morte perché no perché no devono impararlo fin da quando hanno tre anni ultimamente troppa gente clicca e pubblica su post contro gli abusi sessuali sulle donne tutte ste cose qua ma per chi invece è pro nei confronti di abusi sessuali chi magari come la disney che in questo caso fa vedere proprio una mini piuttosto disinibita che punta insomma in modo diretto all'abuso sessuale bella disney con voi amanti dell'abuso sessuale è con voi compra una mini strizza capezzolo è chiaro che l'essere umano al piede ha un dito di troppo il mignolo guarda caso ogni volta che cammini ogni volta che sbatti il piede la botta clamorosa va sempre sul mignolo sarà che di troppo ma a parte questo ragionamento là fuori come vedete nell'immagine esistono anche dei designer sadici che puntano proprio all'amputazione diretta del vostro mignolo creando un mobile come questo in cui vi dà l'illusione che sia tutto tagliato all'angolo ma lascia quello a terra non tagliato uno ingenuamente potrebbe quindi passare lì è semplicemente uccidere di netto il proprio mignolo la domanda è sempre la stessa errore umano o scherzo geniale oscuro molte marchi invece per non essere sommerse dal mercato per non fallire magari creano linee di prodotti piuttosto varie come in questo caso in cui la black gold ha deciso di fare sia lo spray da cucina che serve da quello che spruzzi sulla padella in modo che non si attacchino le cose ma l'ha fatto della stessa identica grafica del veleno per gli insetti quindi attenzione quando andate a spruzzare sulla padella può darsi che vi siete confusi vi state avvelenando qualcuno di voi dirà ovviamente ma frank perché non hai fatti di grafiche diverse dovevamo risparmiare così tanto avevamo solo il colore giallo a disposizione fammi capire io non so se lo sapete ma ultimamente è stato provato che la vostra igiene orale è direttamente correlata alla vostra vista se no perché esisterebbe una pubblicità del genere in cui si vede chiaramente che sta analizzando l'occhio ma parla di piani dentistici promuove piani dentistici e ti fa male il molare sarà sicuramente miopia sul pubblico la prossima immagine invece crea in me pura amarezza dolore rabbia vergogna verso l'essere umano qui in questa immagine è stata persa una grande occasione sei riuscito ad abbinare due parole la cui lettera finale combaciava con quella iniziale potrei utilizzare una sola h north e poi dalla h di north partiva hotel invece ci sono due a cali è stata persa la chance di risparmiare una h per fare qualcosa di non dico figo ma accettabile cristo avete presente quei bellissimi non che utilissimi binocoli che stanno in punti panoramici in varie città mondiali proprio in cui metti 50 centesimi vedi il panorama beh non hanno capito niente in questo caso un genio invece ha capito che il binocolo poteva servire per guardare una rete da molto molto vicino è un po come utilizzare un microscopio mentre che ti fai una passeggiata che lo guardi a fare il mare dico io quando puoi guardare una rete artificiale no assai ambigua invece è la prossima immagine che faccio vedere subito non è altro che un peluche la cui etichetta dice chiaramente abbracciami agmi e riempimi film se tu devi abbracciare e riempire con cosa cosa avrà voluto dire cosa avrà voluto dire invece signori vi presento subito la tastiera di computer più fastidiosa esistente su questo pianeta è la tastiera più fastidiosa in cui non c'è lo zero alla fine dei numeri ma è stata messa al fianco al tasto dello spazio questa scelta probabilmente causerà un sacco di problemi a chiunque utilizzerà questa tastiera tra cui paranoia e follia da manicomio più o meno nel prossimo video che ho trovato invece vi faccio vedere una soluzione geniale a dir poco geniale a un errore umano non so se prima appunto sarà stato fatto l'errore umano e poi è stato risolto possiamo vedere il signor frank che apre la porta c'è un buco un intaglio sulla porta che appena aperto attenzione combacia con l'orinatoio attenzione ma che cos'è magia magia nera oscura e arcana o semplicemente un uomo geniale invece adesso andiamo a vedere forse le mie due immagini preferite di questo episodio signori quante volte siamo andati al bagno accompagnati dal nostro amichetto del cuore o voi donne in particolare accompagnate dalla vostra amichetta del cuore e vi siete sentite discriminate nel dover entrare in due porte separate con un divisorio magari no non più venite ai nostri bagni in cui non ci sono divisori potete tenervi per mano anche mentre che fate la bubù la pipì e la papà vi potete guardare negli occhi e darvi pacchi sulle spalle molto amichevoli mentre che cagate pensate ma lo stesso lo stesso vale per i maschietti sempre nei nostri fantastici bagni senza divisori perché adesso ci mettiamo proprio il cartello best friends zone in cui loro possono stare qui tenersi per mano con la sinistra si tengono per mano con la destra se lo reggono quale espressione di amicizia maggiore direte voi adesso invece parliamo di logica logica nello scrivere nel parlare in questa immagine è chiaramente scritto terreno privato non fumare è proibito falso falso implica vero bambini non fumare è proibito vuol dire che tu non puoi stare dentro quella dentro quel terreno a meno che non fumi devi fumare se stai lì capito capito dove l'errore una scelta qui che un'altra mancata occasione nei confronti della funzionalità di ciò che ha senso nel mondo è la scelta di indicare qual è il piatto piccolo qual è il piatto grande sul piccolo è stato scritto large quindi quello grande ma che indica l'altro piatto e lo small che è quello grande cioè quello grande c'è scritto small che indica l'altro piatto ma questo ovviamente è una scelta tutt'altro che funzionale che creerà solo confusione e adesso che l'ho spiegato non fa più ridere chiaro bisogna stare molto attenti sempre per quanto riguarda la categoria prodotti per bambini perché quella più a rischio messaggi ambigui magari a sfondo sessuale pericolosi pericolosi come in questo caso in cui in una libreria o biblioteca non lo so ci sono tutti questi bellissimi libri sui coniglietti tra cui uno che dice ehi dai facciamo tanti coniglietti ehi no non sto alludendo al fatto che i coniglietti fanno come i pazzi no per niente bellissima invece la seguente insegna che dice ehi tu tu sei una milf cercano ovviamente di sottolineare il loro messaggio cioè mother i love forever mamma chiamo per sempre ma si sa che quello ormai è un termine internazionale per dire una mamma che violentemente con grande rabbia e rancore mi farei non proprio questo ma ok oggi giorno in moltissimi comuni è richiesta avere una forma fisica impeccabile non so se ne siete consapevoli quindi molto spesso optano per mettere delle ringhiere proprio di fronte a delle trisce pedonali così da costringere a fare il salto dell'ostacolo alla persona che deve attraversare la strada come se non fosse già abbastanza pericoloso non vedo neanche un semaforo per i pedoni o per come richiamava il mio insegnante di scuola guida i piedoni chissà perché non faceva neanche ridere ma andiamo alla prossima chiudiamo con una simpatica immagiche che poi neanche così simpatica è però io l'ho apprezzata quindi spero l'apprezzate anche voi perché non costruire un palazzo rivestito completamente di vetro come questo proprio a fianco a un campo da baseball non è la scelta più intelligente che sia mai stata fatta dall'essere umano in generale converrete con me di sì ma adesso mandiamo via con forza e decisione quest'ultima immagine perché qui finisce questo magico episodio di design discutibile spero che vi siate divertiti se così è stato ricordatevi sempre dimostrare un bel po di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su amore con la a maiuscola grazie ma l'importante che non vi scordiate che avete appena visto il vostro amore il vostro amorevole electric o ciao 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 ciao